Carmen Sergi, palleggiatrice dell'Oionio Volley, diciamo che è il valore aggiunto di questa squadra, come hai visto la tua squadra questa sera? Ci siamo un attimino adeguate alla situazione, nel senso che eravamo ancora molto esaltate dalla prestazione che abbiamo sostenuto la settimana scorsa. Questa era una squadra decisamente più abbordabile rispetto a quella la settimana scorsa, però comunque è riuscita a metterci in difficoltà, nel senso che spesso e volentieri riuscivano in un modo o nell'altro a prendere la palla, anche se noi tentavamo di trovare dei buchi, però eravamo in difficoltà, forse un attimino imballate. Però alla fine l'importante è prendere questi tre punti e andare a casa, vittoriose per cercare di andare al meglio nelle parti più alte della classifica. Tu che hai calcato i campi di varie categorie, anche superiori, e che l'anno scorso hai centrato una promozione in Serie B2 e hai vinto la Coppa Calabria, secondo te la tua squadra in questo campionato che posizione potrebbe ricoprire? Sicuramente possiamo lottare per i play-off. Io, proprio perché sono stata due anni fuori, non conosco esattamente il livello della Serie C, però sicuramente le ragazze che fanno parte della mia squadra sono anche delle ragazze che come me sono riusciti ad ottenere dei risultati importanti, ad esempio la stessa Graziella, Lupica, Ausilia, Sonia Camelia, poi abbiamo delle ragazze che stanno crescendo, tutta gente che ha fatto delle promozioni. Quindi ritengo che siamo un po' tutti i valori aggiunti, quindi possiamo tentare di arrivare nelle posizioni più alte. Grazie a tutti.